Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale siamo qui oggi con il ritorno del calcio mercato di serie B alle ore 18 avete visto il video della zona caffè che vi invito ad andare a recuperare su le ultime tre gare Parma-Ascoli, Cremonese-Cosenza e Venezia-Sampdoria oggi parliamo alle ore 21 esce questo video riguardante per l'appunto il calcio mercato un calcio mercato sempre in evoluzione con le squadre di serie B che sono comunque molto partecipi devono sistemare le squadre e soprattutto alcune società ed è per questo che è importantissimo anche commentare ogni due o tre giorni i movimenti di calcio mercato mi raccomando però prima di partire col video vi devo richiedere un pollice in su qua sotto 30, 40, 50 mi piace per supportare i miei contenuti un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi mi raccomando iscrivetevi questo è un canale che parla solo unicamente di serie B e noi partiamo subito partiamo da una notizia importantissima perché Bari-Pushkas è sempre più vicino manca veramente poco all'accordo finale il giocatore è ben disposto a tornare a Bari e il trasferimento dovrebbe farsi secondo una formula del prestito ed è per questo che veramente oggi ci potrebbe essere la chiusura per questo giocatore il Bari avrà a breve il suo nuovo attaccante, il suo nuovo rinforzo là davanti ed è Pushkas in uscita per l'appunto dal Genoa ancora altre notizie di calcio mercato Ternana a caccia di rinforzi soprattutto anche dopo la sconfitta proprio contro il Bari in trasferta la Ternana torna a caccia di rinforzi Pereiro o Pagano sono i due prescelti al posto di Falletti Pereiro è una trattativa che sembrava in fase di conclusione qualche giorno fa c'è stato un grande raffreddamento, bisogna capire se il giocatore è disposto ad accettare ancora Terni l'altra soluzione potrebbe essere Pagano, il giocatore giovane in prestito che potrebbe avere in prestito dalla Roma da capire se il giocatore è per l'appunto disposto a farsi eventualmente sei mesi a Terni Reggiana si lavora in uscita perché è fatta per Lanini al Benevento quindi prima uscita in casa Reggiana e per quanto riguarda invece Angori c'è il problema per rischi di saltare questo trasferimento in entrata invece per la Reggiana Angori difficilmente potrà diventare un nuovo giocatore della Reggiana ancora notizie di calciomercato Ascoli per inglese e avanti tutta perché Castori lo vuole ha fatto anche delle dichiarazioni interessanti post partita contro il Parma dicendo se Castori veramente vuole venire qua lo faccio correre come non mai e lo rimetto in sesto pronto a fargli fare qualche gol perché dovrebbe poi aiutare per l'appunto l'Ascoli a raggiungere la quota salvezza quindi Ascoli in pressing su Castori Ascoli in pressing scusatemi su inglese Castori è il primo grande stimatore di questo ragazzo da capire se il giocatore vuole veramente rimettersi in gioco oppure a basse motivazioni notizie di calciomercato Schira è fatta per Ranocchia ve l'avevo già detto anche qualche giorno fa adesso veramente tutti i contratti firmati Filippo Ranocchia dalla Juventus al Palermo per 4 milioni di euro contratto valido fino al 2028 visite mediche e firma previste nelle prossime 36 ore quindi tra domani e massimo massimo ragazzi mercoledì Ranocchia sarà ufficializzato come nuovo giocatore del Palermo investimento importantissimo del City Group e della società Rosa Nero perché va a rinforzare il pacchetto del centrocampo con un giocatore giovane con anche già esperienze in Serie A e che in Serie B tecnicamente può farti fare la differenza bellissimo colpo, cifra importantissima perché 4 milioni è una bella cifra per un club di Serie B ma sappiamo della grande importanza che ha la società del Palermo li fondi a disposizione e quindi un colpo che ci può assolutamente stare visto i canoni della proprietà Rosa Nero Catanzaro fa sul serio per Antonini giocatore che avevo già detto settimana scorsa a cui Catanzaro va in pressing da un po' è un difensore centrale del Taranto che sta facendo molto molto bene la cifra offerta del Catanzaro sembrerebbero 250 mila euro più 100 mila euro relativi ai bonus il Taranto chiede 500 mila euro totali e tra oggi e domani darà una risposta definitiva al Catanzaro occhio perché c'è poco di differenza potrebbe aumentare anche l'offerta del Catanzaro per convincere il Taranto a lasciarlo subito perché è un giocatore stimato dalla società ma anche Vivarini sarebbe contento di questo neo acquisto Antonini difensore centrale del Taranto che sta facendo benissimo in Lega Pro con la squadra allenata da Capuano occhio a questa pista perché Catanzaro fa sul serio intanto su Tirol ufficiale all'arrivo di Arrigoni ha detto le sue prime parole sono qui per rimettermi in gioco serie B molto tosta e mai scontata quindi occhio anche a questa pista sempre in casa a Palermo si lavora anche in uscita perché Valente ha ricevuto un'offerta dall'Avellino occhio a questa pista perché il giocatore è in scadenza 30 giugno 2024 c'è un'offerta di contratto per il giocatore da parte dell'Avellino con un contratto fino al 2025 con opzione fino al 2026 di rinnovo tra Valente e Palermo non se ne parla già da un po' ed è per questo che il giocatore potrebbe partire sicuramente partirà a parametro zero Bari oltre a Puskas in arrivo anche Fumagalli è quasi compiuto per l'appunto come vi dicevo prima la missione Puskas in arrivo anche Fumagalli 23enne della Gianni Arminio dovrebbe essere lui un neocquisto anche in attacco capa canoniere per l'appunto del Gironea di Serie C un accordo in linea di massima con la società Lombarda è stato raggiunto quindi doppio rinforzo in casa Bari Puskas e Fumagalli per rinforzare il pacchetto difensivo il pacchetto offensivo dopo che Cologne secondo me ha fatto un ottimo esordio questo weekend contro Aternan mettendo a referto anche un assist ancora notizie di calcio mercato intanto lo Spezia oltre che all'ora in uscita perché Verde si avvicina a grandi passi al Cagliari potrebbe tornare un'idea concreta in casa Spezia quella di Capradossi che è un giocatore che piace sarebbe un ritorno il giocatore è ben disposto a tornare alla Spezia lo Spezia deve rinforzarsi anche in difesa e quindi è più che un'idea Capradossi i primi contatti in corso per intavolare una trattativa intanto lo Spezia oltre a Verde potrebbe anche perdere Amian che piace tantissimo al Bologna primi sondaggi il giocatore sarebbe ben disposto a trattare con il Bologna e tornare a giocare in Serie A quindi occhio perché lo Spezia potrebbe essere ben una delle squadre a muoversi di più in questo calcio mercato intanto notizie di calcio mercato Peda resta alla Spal non si muove a gennaio il giocatore è già di proprietà del Palermo ma c'era qualche rumor che potrebbe che poteva che sembrava che il giocatore potesse rientrare già a gennaio ai Rosanaro invece no il giocatore rimarrà fino a fine stagione a disposizione della squadra allenata da Colucci la Spal messa malissimo nel girone B di Lega Pro ancora notizie di calcio mercato sempre su Pafundi c'è il pressing della Reggiana continua anche il pressing del Venezia sul Venezia si raffredda moltissimo la pista Sekulov giocatore che sarà è già stato reintegrato nel next gen della Juventus in Serie C difficilmente e difficilmente andrà in un'altra squadra in Serie B in questi ultimi sei mesi credo che la proprietà della Juve e il giocatore vogliono far concludere al ragazzo per l'appunto in comune accordo la stagione in Serie C con la maglia della Juve quindi difficilmente Sekulov andrà a Venezia che continua comunque il pressing per ragazzi per Sekul scusatemi per Pafundi ancora ultime notizie di calcio mercato il Brescia occhio perché c'è un infortunio per Cistana è sempre più concreta l'idea di perdolo a parametro zero perché ragazzi non ci sono offerte al momento per lui già a gennaio potrebbe bastare un piccolo indennizzo ma molto probabilmente il giocatore verrà perso a zero dalla squadra del presidente Cellino la Feralpi è sempre alla ricerca di un bomber ci sono tantissime opzioni per l'attacco una su tutte è Steven Spendy è l'attaccante Steven Spendy c'è Abiuso piace tanto Dubixax giocatore in prestito al catena che non sta facendo bene su cui la Feralpi è tanto tanto in pressing mentre in uscita Minelli dovrebbe andare a giocare in Romania su di lui c'è una squadra che si chiama Botosani ultima 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 notizia di 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 calcio mercato sempre sullo spezia perché sicuramente questa settimana ci saranno tanti movimenti deve fare praticamente un rinforzo in ogni in qualsiasi reparto e bisogna capire quali sono i veri profili individuati uno su tutti è capradossi ma da capire il colpo al centrocampo il colpo in attacco il colpo anche magari in porta perché Zuet ufficiale non rinnova il contratto pollice nel suo video iscrizione al canale noi ci becchiamo a un prossimo contenuto bella ragazzi